Grande attesa per il concerto dei The Colors a Villa Ricca, stasera alle 21 nell'area mercato nell'ambito dei festeggiamenti patronali. Giovani in fila dalle prime ore della mattinata, ma qualcuno era in attesa già da ieri sera. Fans da tutta la campagna ed anche oltre sono attese infatti almeno 6.000 persone per stasce e compagni, tra cui oltre 1.000 da fuori regione con autobus che arriveranno nel pomeriggio. Voi da ieri sera state? Da ieri sera. Da che ora? Da ieri sera alle 7, alle 8. Da dove vieni? Foggia. Da Foggia. Cazzo a che ora sei arrivate? Tu da dove vieni? Da Salerno. Da Napoli. Da? Napoli. A che ora sei arrivata? Alle 4 e mezza. Quando sei arrivato? Sette meno un quarto. Di dove sei? Di Vilarica. Sette meno un quarto e hai già trovato qualcuno? Sì, sì, sono andato con loro. Sono i miei amici di Alantatevo. 9 e meno 20. Alle 9 e meno 20 e già quanta gente c'era? 30 e 31. Ah, ci avete numeretti? 30 e 31. 9 e mezza. Dove venite? A Salerno. E a scuola nulla? No, a Salerno. Si può saltare un giorno. Voi quando siete arrivati? Che numero siete? Di dove siete? Di dove siete? Sì, a Salerno. Sì, anche io, perché ovviamente è un paese di Alantatevo. Di dove? E aspetterà anche lei fino a stasera a seguire il concerto. Si trova qui, diciamo. Sì, sì, non è la prima volta. Ma anche lei è una fan che le piace o che le ha trasmesso? Ma bene, non mi accompagno per Alantatevo. Da che ora anche voi dalle 10? No, alle 10. Di dove siete? A Fragola. A Fragola, avete accompagnato i vostri figli? Sì. E aspettate qui con loro? Sì. Sotto al sole. Sotto al sole. Purtroppo per i figli si fanno tutto. Sotto al sole.